ok siamo pronti 452014 e poi hanno inserito anche nuove battaglie business tra cui addirittura andare a prendere gli aerei se non sbaglio o forse la merce non lo so sulla porta aerei spawnerà la porta aerei e vai a prendere non lo so la merce che cazzo è quindi è come ti ho detto io sentiamo il prossimo DLC quello gigantesco dei colpi eccetera eccetera sarà incentrato in acqua e la gente pensa che la playstation regga non lo so mappe non regge un cazzo se no metteranno qualche isoletta di merda 4 metri per 4 ah quello è un altro yacht probabilmente dovremmo attaccare lo yacht vedi ha attivato le difese dello yacht se rimani sopra il livello dell'acqua verrai distrutto però aspetta mi devo cambiare quindi dopo aver difeso il nostro yacht dobbiamo distruggere il suo yacht vabbè la vedo una cosa giusta voce è forte deve andare sotto parecchio sotto eh parecchio eh si è un rincoglionito è ovvio che deve andare sotto eh ma quanto sotto è un centinaio io sto a cento sto a centoventi metri dalla superficie so che ci sono cazzo di pietra devi fare un giro enorme sto a centoventi metri dalla superficie mi sono parato in culo di striccio dillo prima eh ma se te l'ha detto eh ma vai sotto sotto dove cazzo stai andando bravo le difese io lo è attivo dello yacht e quel si spegne guarda che ci sono anche delle mine state attenti eh le mine si davanti a noi stanno due mine ancora le beccate in pieno eh ci siamo appena passati qua se non sbaglio no non ce n'è un altro dietro di noi ce n'erano tre mi pare perché dovete entrare prima nel cerchietto giollo da me è muerto da che è dal nino ok si ma questi stanno sotto di nuovo qualcuno si è fatto beccare eh stanno tutti sopra di noi eh no è un imbrace ora si dà oh è sposto voilà il davido volante adesso è il davido subacqueo salve buongiorno non siamo dell'immigrazione qua ci vuole lo shotgun aspetta un atto hai visto che funziona lo shotgun salve buongiorno salve buongiorno oh da cazzo mi sono spaventato è qui se lo stai se lo so amore esci ma da cazzo se stai qui schiacchino da me ma sarà molto sotto no figlio di credo che sia indistruttibile secondo me bisogna seguirlo per forza hai capito perché c'è tre persone che li sparano con una minica e non si fa nulla due domande ah cazzo è vero non l'avevo visto scusà eh figli di puttana sono pure quelli voilà ah i nemici se ne sbattono ai pali ebbè si vittoria bravissimo no Grazie a tutti.